Va a vedere delle scarpe nuove e la sua foto diventa virale sui social network. Nessuna sorpresa se l'acquirente in un negozio di ortopedia in via del Giosomino a Roma è Papa Francesco. Nelle immagini postate in rete si vede il pontefice che arriva accompagnato in auto, entra nella sanitaria e dopo qualche minuto è già in posa per le foto. A pubblicarle i tanti passanti che si sono trovati nei paraggi in quel momento. Bergoglio non è nuovo a queste apparizioni a sorpresa. Lasciò il mondo a bocca aperta quando, appena letto al soio di Pietro, passo per la casa del clero a saldare il conto. Più recentemente invece si era recato senza scorta da un ottico nel centro di Roma per cambiare le lenti degli occhiali, raccomandandosi di salvare la montatura.